Merotto, l'enologo dell'azienda agricola Merotto Graziano. Ci troviamo in Veneto, immersi in queste splendide vallate riconosciute dall'UNESCO come patrimonio mondiale dell'umanità. Merotto Graziano fonda questa azienda a tuttora conduzione familiare, più di 50 anni fa. Il credo dell'azienda, fatto di sacrificio e dedizione, è sempre stato quello del lavoro della terra, il lavoro di questo terreno, che ci consente di ottenere un valdobbiadene prosecco superiore di ACG di altissima qualità. Colgo questa particolare occasione per fare un brindisi insieme a voi amici della Svizzera e salutare la famiglia Bindella con il nostro prodotto, Uvè del fondatore Graziano Merotto. Un vino prodotto in quantità limitata perché ottenuto da una microarea che ha caratteristiche di terreno argillose e un microclima che ci consente di ottenere un'uva glera con caratteristiche molto particolari. Un brindisi a tutti e voi, vi aspetto in cantina.